3.000 passi pisciando Magri 20 sì però Si fanno incontri interessanti da queste parti Siamo ad Abbasanta, bellissimo parco di Sante Agostino, giusto? Agostino Agostino Sagra della Vitella E poi il concerto di Pieromarras Un bel posto per fare un picnic di fine estate, grigliata Abbasanta Andiamo in zona Giorno a palco Ma ci conosciamo io e te Ah sì, sei quella di prima che ha fatto la parolaccia Capisco Ci fanno strani incontri Stanno provando Vediamo se riusciamo a Inquadrare il mitico Pieromarras C'è Piero che si prepara Un mito Un mito Un mito Bellissima giornata Un mito Un mito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.